Sarà un'estate molto positiva per il turismo, con italiani e stranieri che hanno già iniziato ad arrivare al mare e in montagna. Un trend in espansione intercettato da JSH Hotels Collection, che per questa stagione ha aspettative di forte crescita, come spiega il presidente Andrea Cigarini. Il trend delle prenotazioni è in forte anticipo rispetto all'anno scorso, per cui abbiamo già venduto ad oggi molte più camere di quelle che non avevamo venduto l'anno scorso. Riteniamo che anche le condizioni meteorologiche che paiono essere positive per questa stagione influiranno positivamente, influirà positivamente anche la paura di viaggiare all'estero purtroppo. Il gruppo italiano The Hotel Management, che gestisce 16 alberghi e resort dalla Sicilia alla Svizzera, punta molto sul mare Pineta Resort di Milano Marittima, uno degli hotel più lussuosi dove è stato appena concluso un importante restyling. Questa è una delle strutture più importanti sul segmento resort, è uno degli alberghi più grandi e più blasonati, è un 5 stelle, è un albergo storico. E noi abbiamo coinvestito in un qualche modo assieme alla proprietà nel rilancio di questa struttura, che da tre anni è in fase di continua ristrutturazione e riqualificazione. JSH è nata nel 2010 da un team di giovani manager Emiliano Romagnoli e negli anni della crisi economica è diventata una realtà di rilievo, con un modello di business innovativo fondato sull'eccellenza del servizio e della ristorazione. E le prospettive per il futuro sono molto promettenti. Sono almeno 5 progetti sui quali stiamo lavorando, diciamo 3 dei quali proprio precontrattualizzati praticamente. Quest'anno, se tutto va bene, entro l'anno apriamo due strutture importanti, una a Milano e una a Roma, nuove. Le aspettative sarebbero quelle di consolidare ulteriormente il numero di strutture gestite e ad arrivare ad un target di fatturato di circa 100 milioni. Adesso siamo sui 60-65, magari inserendo nuove strutture di pregio. Adesso siamo sui 60 milioni.